sto per fare qualcosa di terribile oh ma che carini wow ma sei un super eroe? cazzo si dolcezza e come ti chiami? capitan mutande smerdate che nome è capitan mutande smerdate? sembra impossibile che sia ancora vivo a me sembra impossibile che ti sia messa quella maglietta deve esserci un modo per morire sono così duro a morire copyright fox state a guardare